Tiz Lunedì 10 febbraio, Santa Scolastica, è il 41esimo giorno, dall'inizio dell'anno ne mancano 325 al termine Il sole sorge alle 7.20 e tramonta alle 17.30 La luna si leva alle 19.05 e tramonta alle 8.20 Il Podestà di Treviso concede al fornaio ugolino tedesco di aprire alcune terme o stufe, vale a dire bagni pubblici, in una casa sopra il Cagnano Grande, vicino al ponte della Fontana Gaiarda. Il decreto di autorizzazione pone però una precisa limitazione. Nelle terme o stufe potranno lavarsi e purificarsi soltanto uomini e donne di buona fame ed opinioni e di provata onestà. Le previsioni per domani Cielo poco o a tratti parzialmente nuvoloso. Nelle ore più fredde non si esclude qualche locale nebbia sulla pianura nord-orientale. Precipitazioni generalmente assenti, salvo qualche fiocco di neve in quota sulle Dolomiti fino al mattino. Temperature minime in diminuzione da lieve a moderata. Quelle massime in quota saranno stazionarie o in contenuto calo e altrove subiranno per lo più un moderato aumento. Vento a tratti significativo dai quadranti occidentali, specie in quota.